Amiche, eccoci qui, ci troviamo alla Mezzia Terne, siamo presso il Salone Candido Parrucchieri, ormai realtà storica, tutto iniziò con nonna e poi a seguire, grazie alla presenza di padre e figlia che ormai da oltre 30 anni sono qui per prendersi cura della salute del vostro capello e non solo. Troverete infatti il servizio anche di tricologia all'interno e soprattutto oltre ai diversi servizi che è in grado di offrirvi il Salone, è diventato il punto di riferimento per chi oggi, grazie anche alle diverse certificazioni, vuole rappresentare i tagli e i colori più in del momento. Infatti il colore non è soltanto una fantasia ma è frutto degli studi che candido continuamente a modo di apprendere per offrirvi i modelli e i tagli più in del momento. Noi intanto salutiamo tutto lo staff che si prende cura dei suoi clienti, tutti pronti operativi a dare il massimo per la loro clientela che tra l'altro sono proprio testimoni, come stiamo vedendo anche di questi colori e questi look particolarmente accesi direttamente realizzati da Candido Parrucchieri. Per cui mi raccomando per il tuo colore e il taglio più in del momento affidati ai professionisti del settore. Candido Parrucchieri.